Il prossimo 24 settembre i bambini della scuola elementare Gino Landolfi rientreranno a scuola. Sarà un anno differente dagli altri trascorsi, viste le linee guida dettate dal Ministero per quanto riguarda la sicurezza e la salute degli studenti. Distanziamento, sanificazione, sicurezza, queste le parole d'ordine che predomineranno nell'ambito scolastico. La dirigente Margherita Baldi, insieme al Comune, è al lavoro per migliorare gli spazi e garantire o rientro in piena sicurezza che rispetti tutte le prescrizioni anti-Covid. Abbiamo lavorato in sinergia con l'ingegnere responsabile del servizio di prevenzione e protezione che ha realizzato uno screening di tutti gli ambienti scolastici. Questo è il lavoro che ha svolto il nostro ingegnere definendo le misure delle aule e ricavando quindi il rapporto tra spazio e numero di alunni, perché come tutti sanno è necessario rispettare un determinato distanziamento sia tra gli alunni che tra gli alunni e i docenti. Sulla base di questo lavoro abbiamo appurato che in ogni classe ci sono dei gruppetti di alunni, che possiamo definire in questo momento di fuoriusciti, che andranno a confluire i nuovi gruppi classe e sono appunto questi gruppi classe che, le dicevo, necessitano di un organico aggiuntivo. Il plesso Randolfi fortunatamente non ci fa rilevare nessuna criticità perché abbiamo fortunatamente degli spazi che erano inutilizzati, che abbiamo riattato anche grazie al sostegno del comune per questi gruppi classe. Lo stesso vale anche per i plessi dell'infanzia. L'unica criticità al momento rimane per un plesso che è il plesso della Caffarelli in località Moio, dove invece c'è mancanza di spazi e si stanno vagliando diverse soluzioni organizzative che potrebbero comportare o lo spostamento di una o due classi qui all'Andolfi, la sede centrale, oppure l'attivazione di una didattica alternativa per pluriclassi, quindi come funziona nei comuni montani e nelle piccole isole, quindi classi in cui confluiscono piccoli gruppi di diverse classi che appartengono ad ordini differenti. Per quanto riguarda invece il servizio di refezione che funziona nelle scuole dell'infanzia e nella primaria del Moio, sarà attivato un diverso servizio nelle aule con il cosiddetto lunchbox, quindi con pasti pronti che i bambini consumeranno nelle aule. Questo perché è stato necessario recuperare gli spazi dei refettori fondamentali per garantire il distanziamento dei bambini. La dirigente scolastica ci tiene inoltre a sottolineare che è importante da parte dei genitori attenersi alle comunicazioni ufficiali per essere ben informati. È importante che le famiglie capiscano che la scuola si sta impegnando, si è impegnata anche nei mesi estivi e continua a lavorare per garantire ai bambini un rientro in sicurezza, il diritto alla sicurezza, alla salute e allo stesso tempo però anche il diritto all'istruzione, quindi stiamo lavorando anche per cercare di alterare il meno possibile l'offerta formativa ordinaria. Comprendo le ansie, le preoccupazioni dei genitori però è importante in questo momento essere lucidi, calmi, collaborativi e non enfatizzare i problemi o crearne anche lì dove non ce ne sono, con sterili polemiche oppure con una deformazione dell'informazione. Quindi è opportuno che le famiglie si attengano a quelle che sono le comunicazioni e le informazioni dei canali istituzionali, quindi seguono il sito del ministero, le comunicazioni ministeriali o degli uffici periferici, quindi l'ufficio regionale della provincia o le comunicazioni della scuola senza farsi impressionare, spaventare o condizionare da fonti che non sono attendibili perché come tutti possiamo verificare in questo periodo ci sono continue comunicazioni, comunicati sui social, in televisione, che derivano da fonti non attendibili o che si basano semplicemente su ipotesi, opinioni che tuttavia però insomma mi rendo conto che spaventano le famiglie.